Il fratto si è concluso il primo sette a Bordia, Modano a zero, Casal Maggiore 1, 27, 25 e più 30. Procci, Italia, Matteo Lippo, percibito. E' un'altra parte con una nuova gruppa, 13, 10. E' un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte è giusta. Procci, Italia, Matteo Lippo, percibito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.